On the farm, every Friday, on the farm is Rabbit Pie Day, so every Friday that ever comes along... Perché hai deciso di condividere con noi la tua profonda conoscenza del mondo di Leonardo da Vinci? Innanzitutto perché in primis io stesso mi sono trovato a scoprire cose che immaginavo non potessero esistere. Forse per una disattenzione, forse perché mi accontentavo di quello che era il racconto ufficialmente riconosciuto. Cioè sinceramente non capivo quale fosse la necessità di approfondire il Rinascimento, approfondire personaggi come Leonardo che erano molto distanti dal mio video. E poi per una banale curiosità, un momento di stasi nella vita professionale, tutto quello che vuoi. Il dubbio è quello che innesca la ricerca, l'approfondimento, la curiosità è l'elemento essenziale, il motore primo della nostra mente. E quindi attraverso la curiosità ho scoperto un mondo che pensavo completamente lontano da me. Ho imparato a vedere ciò che era davanti ai miei occhi, che come diceva Goethe è la cosa più difficile di tutte quante. E quindi ho iniziato questo percorso totalmente personale, agevolato da una non conoscenza delle cose che affrontavo. Questo mi permetteva di spaziare a 360 gradi. Con la fortuna di approcciare il personaggio che più di ogni altro incarna questo scambio di ruoli. Cioè una conoscenza drogata, incanalata, tra virgolette, e una realtà completamente diversa. E l'ho fatto con la maggior forma di sofisticatezza che Leonardo riconosceva, che è la semplicità. Tutto quello che lui ci ha trasmesso, o che la storia ci ha trasmesso, è caratterizzato da un'estrema semplicità e banalità di elementi e di indizi. Poi siamo noi con la nostra complessità culturale, con tutti i nostri paure, vizi, presunzioni, a dare un racconto completamente diverso. E quindi quello che voglio fare è condividere con quante più persone possibili la risultanza di questi miei percorsi. Con la speranza che tutto quello che ha concorso a creare una corruzione della nostra quotidianità, innescando guerre, guerriglie, contrapposizioni, scemi completamente, e ci troviamo tutti sullo stesso piano e tutti nella stessa direzione. In maniera tale che un domani tutti quanti possiamo vivere un po' diversamente, sicuramente meglio. Soprattutto le nuove generazioni, cui stiamo consegnando un'eredità pesantissima da sostenere, che non hanno scelto e che non hanno la possibilità di uscirne senza il nostro aiuto di fondo. Allora, tutto è cominciato da un palazzo che è in Baltellina, che è il punto di arrivo di un tragitto che Leonardo ci racconta nelle sue opere. Molti studiosi pensano che i paesaggi, e di conseguenza il pubblico, pensano che i paesaggi dipinti da Leonardo siano paesaggi di fantasia, siano paesaggi che lui ha visitato e poi utilizzato nei dipinti per corredare un'iconografia cattolica che era quella che era richiesta dall'epoca. In realtà, Leonardo non disegna mai a caso i paesaggi, anzi addirittura nel libro sulla pittura lui dà proprio le indicazioni affinché i paesaggi rispecchino il più possibile la realtà che lui aveva davanti agli occhi. Questo perché? Perché Leonardo alla pittura dà un senso di realismo estremo e addirittura lo associava ai quattro elementi fondamentali del quadrivio che descrivono la realtà, che sono astronomia, musica, geometria e matematica. E a questi Leonardo avrebbe idealmente aggiunto la pittura, proprio perché la pittura doveva essere ed esprimere quanto più possibile il realismo del mondo che ci ospita. La mia fortuna è quella di vivere nel luogo in cui i paesaggi che lui rappresenta sono e quindi senza nessuna capacità se non quella di non avere nessun filtro davanti ai miei occhi. Piano piano ho iniziato a riconoscere nei vari paesaggi dipinti i paesaggi reali, che hanno una duplice caratteristica. Uno, quello di essere straordinariamente belli. E due, di avermi condotto in un percorso che mi ha permesso di scoprire o di avvicinare o di svelare il vero testamento artistico e culturale di Leonardo. Che è appunto questa sala della creazione che c'è in Baltellina, Palazzo Besta, in cui Leonardo deposita tutto quello che era il sapere e la conoscenza neoplatonica giunta a Firenze con il concilio del 1439. Quindi mettendo insieme tutti i paesaggi che lui disegna, che sono la quasi totalità dei dipinti e sono l'80% dei disegni che lui inserisce nei vari codici, di fatto si crea in maniera molto automatica un percorso. I paesaggi non sono mai duplicati e non sono mai soprattutto messi a caso. Cioè corrispondono sempre con un punto in cui la viabilità, la presenza di un castello, un palazzo signorile, oppure un convento legato al Ducato degli Sforza, aveva ubicazioni, in maniera tale che l'eventuale tragitto che il viandante si trovava a percorrere da Milano fino alla Baltellina fosse suggerito proprio da queste indicazioni geografiche che lui inseriva nei dipinti. Ripeto, non sono indicazioni casuali, quindi ci sono sempre dei punti caratterizzati da un'edificazione o una formazione rocciosa o uno scorcio particolare che non lasciano spazio a interpretazioni o a dubbi. Cioè sono quelli, quando tu vedi il disegno delle grigne, è quello, non può essere nessun altro paesaggio. Questo fa sì che tutta quella speculazione che si innesca sulla produzione paesaggistica di Leonardo, per cui qualcuno vuole che sia casuale, qualcuno vuole che sia, come dicevo prima, un ensemble senza motivo, in realtà è facilmente individuabile. Quindi quello che ci troviamo a fare, al di là di riconoscere i paesaggi, è proprio la possibilità di camminare agli dipinti. Questa cosa si manifesta in forma più estesa e più anche prorompente nella Gioconda, in cui l'esperienza di camminare al dipinto è realmente percettiva. Cioè la Gioconda sono otto paesaggi differenti, descritti sia dalla sagoma che dalle mani della dama ritratta e soprattutto nei paesaggi che sono tre a sinistra e tre a destra. E l'esperienza che ognuno di voi può fare è proprio quella di camminare, ad esempio, nel paesaggio di destra, che è stato dipinto dal forcellino, che è un punto panoramico estremamente suggestivo, ai piani del Resinelli, ai piedi della Grigna, dove ognuno di voi potrebbe giungere, consiglio di giungere, perché la vista è estremamente straordinaria e perché senza comprendere i paesaggi non è possibile comprendere le opere di Leonardo. L'esperienza di camminare nei dipinti di Leonardo è un'esperienza molto suggestiva, innanzitutto perché serve a capire il senso profondo dell'opera leonordesca, che altrimenti non sarebbe incomprensibile. E in secondo luogo perché permette a ognuno di noi di addentrarsi nei dipinti, anche fisicamente. E questa cosa io la faccio quotidianamente per motivi personali di studio, ovviamente, ma perché sempre più persone mi chiedono di poter vivere questa esperienza, che è un'esperienza estremamente suggestiva, quindi o gli ospiti della nostra struttura turistica oppure amici che conoscono oramai il mio lavoro da tempo, mi chiedono di essere portati in questi luoghi. Ed è bellissimo vedere la sorpresa nei loro occhi e al tempo stesso la magia che alcuni di questi luoghi innescano. Sicuramente il forcellino per la Gioconda, perché è quello più immediato e perché io ho amato lanciare un contest che è quello del farsi ritrarre nella posizione della Gioconda, nel luogo in cui la Gioconda è stata dipinta. Ma ad esempio la Grotta della Vergine delle Rocce, che è un sito rituale celtico molto importante in cui esiste un sedere della fertilità che riceve il primo sole nascente il 21 giugno, quindi sostizio d'estate. E accanto c'è questa grotta che è la grotta di Giovanni Battista, appunto nella trasposizione biblica Giovanni Battista è il sole del sostizio d'estate. E c'è questa esperienza in cui si può entrare nelle viscere della terra per 37 metri ed è un'esperienza unica. Quindi portare amici, portare persone che scoprono l'energia e la vibrazione che c'è all'interno di questa grotta è straordinario in primis per me, perché leggo le reazioni delle persone, ma sicuramente anche per le persone che hanno la possibilità, in questo caso, cioè quello della Vergine delle Rocce, di vivere l'esperienza del dipinto, ma anche un'esperienza sensoriale molto profonda. Tra l'altro, come dicevo, questa grotta si riferisce sia all'ambientazione della Vergine delle Rocce, con anche qui una combinazione di paesaggi molto importante che descrive poi una direzione di viaggio che porta fino ai pian di Resinelli, quindi il forcellino, ritratto nella gioconda, eccetera, eccetera. Ma è ritratto anche in un disegno che è chiamato disegno del teatro che Leonardo prepara per la scenografia dell'Orfeo di Poliziano, per cui ci sono questo disegno doppio in cui sopra compare la conca di Lecco col monte San Martino e sotto compare proprio la grotta e nell'idea scenografica di Leonardo questa montagna, il San Martino, si apriva e dalla grotta, quindi dalle sue viscere, uscivano poi i vari personaggi che componevano la pièce teatrale, insomma. Approciare Leonardo da Vinci è sicuramente un'esperienza che va oltre l'aspetto pittorico, l'aspetto fantastico e misterico legato a questo personaggio, ma è un'esperienza che ci permette di avvicinare in realtà una conoscenza che è stata da tantissimo tempo cambiata a uso e consumo di alcuni personaggi della storia o istituzioni storiche. Ad esempio non è possibile conoscere la vita e le opere di Leonardo da Vinci senza comprendere quello che fu effettivamente il vero svolgimento del Rinascimento, il cui corso è stato completamente stravolto e artefatto. Quindi il senso di questo nostro percorso che andrà avanti per molte puntate è quello di approcciare la storia e forse il suo personaggio più rilevante sotto il profilo culturale in una forma completamente diversa attraverso questi miei racconti che tendono a condividere delle scoperte che altrimenti sarebbero solo mie e non avrebbero un senso compiuto. L'ultima analisi di tutto questo è quella di arrivare a comprendere il testamento leonardesco e cioè il modo in cui l'universo intero funziona. Diceva Tesla, se volete comprendere il funzionamento dell'universo imparate a ragionare in termini di energie, frequenze e vibrazioni. Questo è quello che Leonardo ci ha lasciato. La struttura geometrico-matematica dell'intero universo. Senza conoscere Leonardo noi non potremmo approcciare questo. Quindi la comprensione di Leonardo non può prescindere da un approccio tra virgolette esoterico cioè che non segue l'ortodossia accademica. Questo perché? Perché ci sono degli elementi estremamente oggettivi come quelli dei paesaggi che ci permettono di scoprire un Leonardo completamente diverso. Tutti quanti siamo abituati a pensare che Leonardo fosse un genio assoluto che fosse un inventore forse anche un pittore ma prevalentemente la sua figura incanalata nella genialità. Lo stesso Isaacson che ha fatto una biografia che non condivide in una maniera più assoluta lo paragona ad altri come Einstein e Steve Jobs e Franklin innovatori dell'umanità. In realtà Leonardo è molto altro e molto più di questo cioè Leonardo è prevalentemente musicista musicista inteso come traduttore di quella legge naturale a cui la musica codificata poi si rifà che rispecchia la legge universale. Quindi comprendere il senso profondo dell'opera leonardesca significa comprendere il modo in cui la legge naturale si manifesta e condiziona tutto il nostro agire quotidiano non solo nelle nostre azioni ma nella nostra struttura fisica, biologica. per questo motivo ho deciso di creare queste pillole di condurvi per mano nella conoscenza di Leonardo e naturalmente a maggior ragione lo si può fare con dei seminari con delle conferenze a cui aderirò volentieri se richiesto oppure venendo qui proprio a Lecco e scoprire sul campo quello che lui dipinse e soprattutto perché lo dipinse quindi capire tutte quelle sfumature quelle leggi essenziali che compongono la nostra vita di tutti i giorni questo è quello che Leonardo ci ha lasciato e questo è quello che Leonardo noi abbiamo il dovere di riscoprire perché finché lo teniamo nascosto nei meandri di una conoscenza drogata e parziale continueremo a vivere una situazione di virtualità continuando a corrompere la nostra esistenza sempre più e a complicare la vita dei nostri figli in maniera sempre più irreversibile quindi Leonardo diventa il motore il vettore primo attraverso il quale poter ricostruire un secondo rinascimento On the farm Every Friday On the farm It's rabbit pie day So every Friday That ever comes along